Io mi auguro che si instauri, si capisca che il problema principale oggi è rispolverare i sentimenti di solidarietà, quei sentimenti di francescana memoria che settimanalmente sentiamo da Papa Francesco, e cioè una solidarietà vera, una solidarietà umana. Questo può agevolare il percorso di ripresa del nostro Paese. Per quanto riguarda invece la legge elettorale, è una ignobile legge elettorale, da tutti i partiti voluta, nessun escluso, perché se ci fosse stato invece un intendimento serio l'avrebbero già modificata. Io credo che quando ho parlato di esempio, che dovrebbero dare l'esempio sin da ora, rifacendo la legge elettorale, ma siccome sono sicuro che non si rimetteranno d'accordo, allora il presidente tecnico Monti dovrebbe avere il coraggio di portare in questo Parlamento ora, ora che lui è un governo scaduto, una sorta di decreto in cui si ripristina la legge elettorale antecedente al Porcellum, cioè il Mattarellum, perché non è possibile che vi possa essere un partito che con il 30% conquisti il 51% dei seggi, ne è possibile che il cittadino venga privato dalla responsabilità di scegliersi il proprio rappresentante, il proprio legislatore in seno al Parlamento. per cui ridare la libertà che ci è stata tolta ai cittadini di scegliere, di essere responsabili per i cittadini della scelta che va a fare e quindi legge da abrogare, ma questo l'esempio non viene dato neppure da questo Parlamento allo Stato attuale. Ecco Presidente abbiamo parlato prima, visto che è scattato ufficialmente ormai il totonomi per la scelta del Presidente della Repubblica, quale sarebbe secondo lei il nome più qualificato per ricoprire questo ruolo? Allo Stato attuale per la situazione critica che c'è è implorare all'unanimità a tutti i partiti la ricandidatura del Presidente Napolitano. Quindi altri nomi che sono circolati in queste ore non trovano la sua condizione? Ma ognuno di questi ho visto che ha un veto da parte di altri partiti, componenti, eccetera, questa è una situazione drammatica. Prendiamo atto che la situazione è davvero severa, seria. Prendiamo atto che il Presidente Napolitano si è comportato in questo settennato in maniera eccellente, ineccepibile, che gode della stima anche a livello internazionale. Perché non chiedergli ancora un ulteriore impegno sino a quando non saranno soltanto modificate queste due o tre cose, lavoro, Stato sociale, legge elettorale, e poi si ritorna a voto e il Presidente si dimette. L'idea di una donna le dispiacerebbe oppure non si può fare un discorso di genere? Non è una questione di genere, non è una questione femminile, maschile, eccetera, si tratta di rappresentare al meglio il nostro paese. Ci sono persone che possono, tranquillamente, personalità che possono ricoprire questo ruolo, ma oggi viviamo un momento emergenziale, abbiamo bisogno di certezze. Rendiamoci conto che fra tre giorni, a quest'ora, potremmo già avere il Presidente della Repubblica e non si sa ancora, e si parla ancora di totonomi sul Presidente della Repubblica. Non è una cosa seria per un paese che deve lavorare incessantemente per riprendersi. Allora, cambiamo decisamente argomento e adesso ci trasferiamo in città, nel senso che parliamo di argomenti locali, sempre però di totonomi. Parliamo perché si è in cerca del nuovo direttore generale dell'ASI, del Consorzio ASI della zona industriale, oggi c'è stata un'altra riunione del CDA, che cosa è emerso? Oggi c'è stata la riunione del CDA, ma non soltanto del CDA, anche dell'Assemblea dell'ASI e all'unanimità è stato designato come direttore generale il Dottor Onofrio Padovano. Una conoscenza della provincia di Bari, insomma. Ma io ho avuto il piacere di conoscere il Dottor Padovano due anni fa. Da prima non lo conoscevo. Ebbe a sceglierlo come direttore generale della provincia di Bari per la sua validità sotto tanti aspetti, anche per il suo curriculum piuttosto copioso, per le sue competenze e le sue capacità, soprattutto nell'assetto amministrativo. Per la verità oggi non è che io esulti proprio su questa scelta, perché la provincia si va a privare di un uomo, di una personalità che ha un peso, un peso notevole. Direi che oggi sia l'Assemblea dell'ASI, sia il Consiglio di Amministrazione dell'ASI hanno rispettato quello che dovrebbe essere sempre l'andamento e il criterio di scelte di uomini che si riversano poi nel portare avanti delle attività a servizio della comunità. Oggi è stato rispettato il criterio esclusivamente meritocratico. Allora, parliamo invece di un altro tema che riguarda sia purtroppo il panorama nazionale ma anche quello locale, che sono i fondi per la cassa integrazione. L'abbiamo accennato anche prima, ma c'è stata la settimana scorsa una conferenza stampa del Presidente Vendola che ha voluto reso contare sulla situazione della Puglia. In Puglia mancano l'appello a 180 milioni di euro per poter chiudere il 2013 e che gli 82 milioni di euro di cui è in possesso in questo momento la regione Puglia non basteranno probabilmente nemmeno a coprire i primi quattro mesi del 2013. Il Governatore Vendola ha lanciato un messaggio molto serio e chiaro alla politica nazionale nel senso che bisogna recuperare i fondi, probabilmente attingendo anche a quei 40 miliardi di euro destinati al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni con le imprese per poter stanziare almeno una parte dei fondi, un miliardo di euro si era pensato, alla cassa integrazione. Rischia di scoppiare una vera e propria bomba sociale? È un dramma questo con cui bisogna fare i conti, Presidente? Certamente sì, è un dramma, soltanto che mi meraviglio che le cose vengono portate all'attenzione soltanto quando oramai è emersa la tragicità della questione. Queste cose bisognerà prevederle in tempo utile. Mi chiedo questo, ammettendo che tutte le vertenze che oggi sono in atto, soltanto a Bari, nella provincia di Bari, dovessero sortire effetto negativo, Bridgestrom, Osram, Vodafone e quant'altro, quale sarà il futuro? Quale sarà la programmazione? Cioè, noi ripercorriamo le situazioni giorno per giorno, viviamo la giornata. Diceva De Gasperi che lo statista non guarda all'oggi, ma al domani, e quindi dobbiamo saper programmare quello che deve essere il futuro dei giovani, della società. Di oggi che questa situazione c'è, ritorno alle CCR, ma posso ritornare alle CBH che fra poco scoppieranno, ma lo stesso ospedale Miuli, tanto per rimanere nell'ambito della sanità. Guardate, è troppo facile. Certo, oggi c'è questa situazione e bisognerà porre rimedio. Ecco perché l'invito che io mi permetto, con molta umiltà e da ultimo, di fare a chi ci rappresenta a livello nazionale, ad ogni livello, mettiamoci insieme, facciamo come la Germania, cerchiamo di dare delle risposte concrete ai cittadini e di risolvere i problemi e non di beccarvi continuamente l'un l'altro, senza poi produrre nei fatti nulla alla gente che è disperata, che non arriva più manco alla metà del mese e le cui ripercussioni sociali ricadono soprattutto sui ragazzi. E che se ne fischia di nomi, colori politici, francamente, in questo momento. Allora, stop, siamo in chiusura. Ringrazio il Presidente della provincia di Bari, Faccio Sostitulli, per essere stato con noi. Presidente, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento torna come sempre lunedì prossimo alle 15.30. Arrivederci. Grazie a tutti.